A Dacerra i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in caccia emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia nei confronti di Enrico Terracciano, 19enne a Cerrano, gravemente indiziato di tentato omicidio volontario e porto di detenzione illegale di arma da fuoco, reati aggravati dalla modalità mafiose. L'indagine condotta dal nucleo investigativo di Castello di Cisterna e diretta dalla DDA Partenopea è stata avviata a seguito del tentato omicidio avvenuto in Acerra il 15 marzo scorso in anno di un 23enne cugino dell'arrestato. All'esito dell'attività investigativa, a carico di Enrico Terracciano sono stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza in ordine alla materiale esecuzione del tentato omicidio e si è compreso che il momento del diritto sia ragionevolmente individuabile nel credito di una somma di danaro che l'autore del diritto aveva nei confronti della vittima per un affare illecito.